buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi siamo qui perché voglio parlarvi di una scoperta del periodo che sono i prodotti di safe and beauty li scoperti su instagram e sono subito andata a vedere il loro sito queste ragazze sono molto molto simpatiche molto disponibili e sul sito trovate tanti prodotti interessanti il sito è www.safebeauty.it i prodotti che io ho acquistato e provato sono questi ne ho già parlato anche su instagram sono l'acqua micellare questa qua 3 in 1 tutti i loro prodotti hanno all'interno l'acqua termale questa qui è un'acqua è un'acqua micellare che strucca anche il trucco waterproof e e con acido ialuronico e ad acqua essenziali la trovo ottima perché con una sola passata strucca perfettamente allora io usavo l'acqua micellare di garnier quella per le pelli sensibili e mi sono sempre trovata non bene non bene perché non non strucca praticamente nulla per quanto mi riguarda e quindi dovevo passarla più volte oppure dandoci dentro parecchio quindi avevo sempre gli occhi rossi la pelle un po infastidita invece con questa qui mi trovo davvero davvero bene in più lascia la pelle morbida e idratata che è una cosa che per me è fondamentale e ve la consiglio se avete bisogno di un'acqua micellare buona provatela altra cosa che ho acquistato per mio marito è uno scrub corpo lui ha sempre le gambe molto secche e a volte la pelle si squama anche un pochino quindi ho preso questo scrub corpo che trovo eccezionale ovviamente io l'ho già provato l'ho preso per lui e poi e poi lo uso io allora lo scrub è questo qui mi spiace se siano cancellate le scritte forse questo pack che mi è arrivato era difettato non lo so però con gli oli che contiene all'interno e passandoli sopra si sono si sono cancellate comunque sono 500 ml di prodotto è ottimo e sale marino con dentro olio di jojoba e olio di karité e sfoglia in profondità quindi toglie davvero davvero tutte le cellule morte e questi oli che all'interno lasciano la pelle super morbida levigata fantastico fantastico ottimi vi consiglio anche questi andate a vedere ce ne sono di due tipi vedete quello che fa per voi hanno diverse caratteristiche comunque questo qui che ho preso io è ottimo sono andata per un secondo acquisto sempre sul sito di safe and beauty perché mi mancava la crema solare allora ho deciso di andare a vedere loro che cosa proponevano come creme solari prima di farlo ho chiesto su instagram alle ragazze e già che mi stavo informando sulla crema le ho chiesto se era possibile avere dei campioni di altri prodotti visto che mi ero trovata così bene in modo da poter fare un video dedicato che poi è diventato questo video e loro sono state gentilissime come sempre e le ringrazio ancora mi hanno inviato da provare questo contorno occhi questo qua è un contorno occhi che leviga riempie e uniforma con mini h a e anche questo con acqua termale è una nuova formula liftante e rimpolpante allora questo qui l'ho già provato ed è ottimo non è uno di quei contorno occhi super ricco è molto leggero si assorbe subito non unge ha un profumo di agrumi che per me è fantastico lo trovo davvero davvero ottimo devo ancora testare la funzione anti rughe ma per questo ci vorrà ancora un attimino devo provarlo per un po più di tempo comunque per il momento ottimo anche questo mentre vi stavo dicendo il solare io ho preso questo solare qui che è un viso corpo spf 50 più anche questo con acqua termale è una crema fluida ad alta protezione come tutte le creme solari va riapplicata ogni due ore almeno perché sennò perde l'effetto è una crema waterproof come ho detto e non ha quell'effetto che danno alle creme solari cioè il bianco che lascia tutta la pelle bianca no vabbè subito un pochino perché una crema bianca comunque però come voi la massaggiata sulla pelle scompare non è unta non è appiccicosa si assorbe subito e anche questa ha un profumo fantastico che credo sia un profumo di caritese non vorrei sbagliare ma a me ricorda quella profumazione lì e questa l'ho provata soltanto su una mano per vedere com'era non l'ho ancora provata come protezione vera e propria al sole perché purtroppo qua il tempo è autunnale da noi e speriamo che inizi questa estate prima o poi e quindi appena ho modo di testarla bene parlo magari su instagram in un mini video comunque io sono molto molto soddisfatta dei miei acquisti questi prodotti sono davvero davvero validi per la mia personale opinione e se volete provarli andate sul sito www.safebeauty.it e fatemi sapere cosa ne pensate per questo video è tutto io spero di avervi tenuto compagnia e di avervi dato informazioni utili per questo tipo di prodotti e vi saluto e ci vediamo al prossimo video mettete un like iscrivetevi al mio canale ciao a tutti